Ultimo passo verso la Serie di Iscoc, a l'ora del primo atto della finale play-off di eccellenza. Abiceglie è smaltita l'euforia dovuta al gol di Lucero, giunto al novantottesimo e valso la qualificazione contro la Vigor Lamezia. È tempo di concentrare il focus sull'ultimo step, che divide i nerazzurro stellati, ultima delle squadre pugliesi ancora in gioco a livello nazionale, dalla tanto agognata promozione in quarta serie. Al Ventura, nella gara d'andata della finale, in programma alle ore 16 in diretta su Antenna Sud, arriva il Costa d'Amalfi, giunto terzo nel girone B dell'Eccellenza Campana. Società che rappresenta tutti i comuni costieri in un progetto ambizioso cominciato pochi anni fa. Il Costa d'Amalfi ha superato Scafatese, Castel San Giorgio e San Cataldo nel suo cammino verso l'ultimo atto, battendo quest'ultima in semifinale nazionale sia all'andata che al ritorno. Campani che dunque arrivano in gran spolvero, ma senza Capitan Proto, fermato dal giudice sportivo. In casa nerazzurra, mister Di Meo recupera invece avvantaggiato, che ha del tutto scontato la sua squalifica di tre turni, ancora Outquamè, che tornerà a disposizione per il secondo round di domenica 16 giugno. In dubbio alla presenza di Bomber di Rito, il 39enne centra avanti argentino e uscito anzitempo dalla gara contro Lamezia per un problema muscolare. Ad ogni modo, il Biceglie sarà chiamato a far la voce grossa in quest'ultima gara casalinga di stagione, come noto e valida la regola dei gol in trasferta, a beneficio proprio dei pugliesi nel doppio pareggio in semifinale. Risulterà quindi importante concedere il meno possibile per arrivare alla sfida Maiori, in costiera amalfitana tra una settimana, in condizioni quanto più favorevoli. Dallo Stadio Ventura, appuntamento con la finale d'andata su Antenna Sud con ampio prepartita, calcio d'inizio alle ore 16.